Via Stuba a Gallio, per intenderci la strada che porta le melette, è stata interessata da un taglio di un grande abete alto circa 30 metri. Per tre ore, dalle 8.40 di stamane, i vigili del fuoco di Asiago, con i colleghi intervenuti da Vicenza con un'autoscala, hanno cercato di segare l'alto albero per rendere sicura la circolazione. L'operazione è stata resa più difficoltosa dal fatto che i fili della linea telefonica passavano proprio fra i rami.